Aci, Fiat e Quic, assieme per una mobilità responsabile, la più grande associazione che rappresenta gli utenti della strada, il brand automobilistico italiano e la società leader nella gestione della strada hanno unito le forze per promuovere iniziativi e servizi orientati all'affermazione dallo sviluppo di mobilità, volta al rispetto delle regole, all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, corretta manutenzione del veicolo, ancora occupazione regolare degli spazi dedicati alla sosta. Noi ci siamo uniti con chi realizza le automobili, con chi le costruisce, con chi le fa sostare, proprio per affermare il diritto alla mobilità responsabile che abbiamo definito nel corso dell'anno precedente, nel giubileo del Cardinale Sepe. Il connubio con Aci in particolare, ma anche con gli amici del Quick Parking, va avanti da tempo per sostenere su un territorio, che è un territorio molto complesso, i temi della mobilità responsabile e tutto ciò che riguarda il vivere automobilisticamente in maniera civile. Saranno organizzate periodicamente anche giornate dedicate ai principali fattori di rischio per l'ambiente e la sicurezza stradale. A benedire l'Unione è stato il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. Più ci responsabilizziamo a questo fenomeno, più cresciamo non solo civilmente, ma anche moralmente, in questo contesto in cui ci troviamo a vivere.